Goa, senti l'odore, senti, vedi ti piace solo l'odore, ora Goa puoi mangiare Il premio, goa, il palco al dolore Dove stai? Eccolo qua, Goa, ora ridiamo il prosciutto crudo, Goa Vieni Quanto è bello Goa Goa, la torta gelato, guarda, questa è la torta gelato con quattro gusti Sedano, rapa, carne vaccinata, prosciutto cotto ai pezzetti e biscotti Torta gelato ai quattro gusti Quanto è? Quanto è una bella? Quanto è un po' di tipo di cibo Quanto è un po' di tipo di cibo guarda giacomo che cosa ti ha preparato stamattina come dolce aspetta aspetta guarda che bella questo è un dolce speciale tutto per te l'ha preparato gioco sei contento sì o no sei contento sì o no si è contento tieni pieno devi mangiare solo quello di sopra pieno aspetta solo quello di sopra di mangiare tutto 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 ti stai mangiando guarda che cosa ti devo dare stamattina guarda i biscottini che ti piacciono li vuoi i biscottini aspetta aspetta li vuoi sì o no sì li vuoi tieni tieni beh andiamo al tuo posto don mangia i biscottini